C'è anche quello che è stato il filo conduttore dei workshop che abbiamo fatto fino adesso e che continueremo a fare fino a sabato pomeriggio nel cercare di capire se esiste un equilibrio possibile tra sostenibilità delle produzioni e reddito perché in teoria sarebbe anche facile il no, il no all'inquinamento, il no alle emissioni, il no agli antibiotici ma siccome è l'attività di produrre il latte e la carne, almeno è un'attività di reddito, bisogna capire se esiste un equilibrio, dobbiamo trovare un nuovo equilibrio e questo equilibrio non lo sta cercando l'Italia, lo sta cercando tutto il mondo occidentale perché questa che viene chiamata oggi la Green New Deal è anche un potenziale gigantesco business internazionale perché se rimane nell'ambito della correttezza e della serietà che ci sia anche la possibilità di fare un business dietro all'eco friendly, a un uso prudente dei farmaci, a una migliore gestione delle risorse ambientali non è una cosa assolutamente negativa. Per cui ringrazio tutti, ringrazio ovviamente chi ci aiuterà, quindi Nicoletta Colombo come leggete dal prima slide che è presidente dell'ordine dei medici veterinari di Cremona e ringrazio Carlo Rusconi che è un dirigente, quindi è il servizio sanitario della Valpadana, Vittorio Marchi che è un collega allevatore veterinario quindi a duplice attitudine e noi ci piace molto queste definizioni del duplice o anche triplice attitudine che abbiamo nel nostro ambito. Quindi inizierei con un contesto. Il contesto qual è? Oggi si usa questa definizione del sentire collettivo, cioè quello che è il pensiero che si matura essenzialmente nella rete, che è estremamente fluido, come disse Bauman, il sentire collettivo. Noi facciamo anche fatica a volte a seguire quello che sono i desiderata del consumatore, a parte aspetti oggettivi. Comunque in questo momento il sentire collettivo converge sul fatto che la gente pensa che le bovine da latte soffrono negli allevamenti perché costretti ad una vita molto lontana dal loro comportamento naturale. Ma la gente pensa anche che sia giusto che questi animali pascolano e questo è un argomento, voi immaginate di quale intensità. Vedo il direttore del tecnico del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Nocetti, che oltre a essere anche lui a duplice attitudine perché è un collega, ma è un argomento che si sta trattando, questo del pascolo. La gente pensa che noi inquiniamo il pianeta e sarà un workshop con l'ASPA che faremo alla conclusione di questa manifestazione, ma i medici attribuiscono agli allevamenti la maggiore responsabilità dell'antibiotico resistenza dell'umano ovviamente, cerchiamo di capire se è vero e tante altre cose. Cominciamo con alcuni flash per introdurre poi i nostri ospiti. Per contrastare il fenomeno dell'antibiotico resistenza, questa è la mia opinione, ognuno di noi, magari di un colai era meglio, deve fare un po' la sua parte, perché c'è una tendenza un po' ultimamente a dare sempre la responsabilità a altri, non è un mio problema, non è un problema io, lo deve rispondere qualcuno, ma in tutto questo percorso ognuno deve fare piccolo o grande che sia, non sarà ovviamente obiettivo di questo workshop come di nessun altro dire no, noi non abbiamo responsabilità nelle animali da reddito sulla antibiotico resistenza. No, la CO2 che produce l'allevamento non ha responsabilità al suo riscaldamento del pianeta, non è questo lo stile di ruminanzia, cerchiamo di capire ognuno per la nostra parte cosa possiamo fare, ma per iniziare un percorso del genere bisogna capire da dove partiamo. Io sinceramente a volte ho avuto una perplessità lo scorso anno, mi sono proprio confrontato con Carlo Gazza dopo aver chiesto informazioni all'AISA nel dire ok, noi delle produzioni animali e specialmente dei ruminanti, quanti antibiotici effettivamente consumiamo e per quale patologie? Perché quando partiremo da lì possiamo darci una traiettoria, partiamo da qui per arrivare lì, se no è come il conto economico del worto precedente, se non partiamo dal costo di produzione del latte non possiamo avere lo strumento per ridurlo. Recentemente è stato, ma molto recentemente, l'EMA ha dato dei dati relativamente al consumo degli agenti microbici e il nostro paese ha saldità di numeri che vedremo molto brevemente, l'intensità del colore indica l'intensità del consumo degli antibiotici sugli animali da reddito. Per cui diciamo che la Spagna, poi lo vedremo nel dettaglio, l'Italia, compresa la Sardegna ovviamente e alcuni altri paesi come Cipro vengono addossati a una responsabilità. e questi sono i numeri che poi chiederò un commento vostro. L'Italia, diciamo, nelle vendite, questo è l'anno 2017, sono stati pubblicati credo un mese fa, se non meno, questi dati, e l'Italia, vedete, con i suoi 1057,8 tonnellate di antibiotici venduti per le produzioni animali, non è in ben messa, abbiamo una Spagna che ci supera non di misura ma di poco, ma nei confronti almeno di molti dati, non facciamo una bella figura da questo punto di vista. Questo, diciamo, leggendo i dati, anche espressi come milligrammi per PCU, che sarebbero, è un modo per leggere le informazioni, lo dico più che altro, magari per degli allevatori presenti, eccetera, per leggere il consumo degli antibiotici, quindi per unità animale. Vedete, il PCU è espresso per peso stimato, quindi non soltanto, diciamo, come quantità assoluta. L'EMA in questo report, e poi che cosa fa? E questo sarà uno degli oggetti che chiederò delle vostre considerazioni, suddivide il consumo degli antimicrobici per specie animale, ma per specie animale da reddito, quindi abbiamo i bovini, i suini, i bolli, le pecore e le capre, pesci, conigli e cavalli, che non è propriamente un animale da reddito, comunque l'hanno messo in quella cosa, e qui vediamo che nei bovini, Francia, Germania, come valore assoluto ovviamente, ma qui gli animali allevati sono molti, soprattutto dei bovini, vede Francia, Germania e stranamente l'Irlanda, paese che punta a un green piuttosto spinto, e l'Olanda, non vedo l'Italia, l'Italia, vedete, fanno un peso piuttosto imponente. Chiaramente l'EMA, ma questi sono tutti i dati pubblici e ampiamente disponibili, vengono suddivisi per categorie di antibiotici, di antimicrobici per i vari paesi. Chiaramente in molte, diciamo, quando più che un dibattito costruttivo, quando il dibattito sfocia nell'ideologico, che è un comportamento che non ci appartiene, si fa fatica anche a capire. Chiaramente non è necessario essere addetti ai lavori per dire che le preparazioni, come poli orali di antibiotici o le soluzioni orali, sono ovviamente maggiormente utilizzate nei monogastrici, oppure quando i bovini sono ancora monogastrici, cioè nella fase di svezzamento. Ma voi vedete che questo tipo di preparazioni comunque assorbono più della metà del consumo degli antimicrobici negli animali da reddito e soprattutto, diciamo, negli animali quindi di nostro interesse. Vedete, le soluzioni iniettabili e i preparati intramammari comunque hanno una penetrazione molto marginale. Ma ripeto, questo non significa nulla. Questo non ci assolve, diciamo, da non fare la nostra parte in questo particolare settore. Per dare una nota positiva e concludo questa brevissima introduzione, vedete, questo è un trend che pubblica sempre questo documento dell'EMA, di cui vi invito alla lettura. 2010-2017, comunque c'è un comportamento virtuoso anche da parte del nostro Paese nel consumo degli antimicrobici, nei food animal, quindi negli animali destinati a produrre il cibo per l'uomo. Quindi, sì, partiamo da un valore piuttosto alto, ma la buona volontà si sta vedendo. Io a questo punto ho questa presentazione che mi avete presentato, che mi hai mandato tu, Marchi, e quindi do la parola al collega Marchi, che ha un punto di vista complesso, perché, ripeto, è un collega professionista, ma anche allevatore, per cui il suo, diciamo, intervento è importante. Grazie a te. Nicoletta, vuoi dire qualcosa? Allora, il mio intervento si riallaccia immediatamente all'utilizzo della REV, per cui la ricetta elettronica, che è partita ad aprile, per cui abbiamo i dati di sei mesi di lavoro, e è stato un cambiamento che è importantissimo, epocale, direi, perché nella nostra professione, negli ultimi anni, eravamo abituati alle solite prescrizioni, montagne di carta, tutta la registrazione, e questo ci ha portato a tanti cambiamenti. Adesso io ho preso dalle pubblicazioni, che sono a disposizione di tutti, qualche diapositiva, così tanto per vedere un po' di dati, però sono dati importanti, perché guardate, guardate di ricette elettroniche, quante, quante già ne sono state fatte. il numero di confezioni dispensate con le ricette, 12 milioni e mezzo di confezioni di farmaci, provo con questo, vedete assolutamente meglio, vedete che da aprile 2019, l'utilizzo della ricetta elettronica per le dispensazioni, è aumentato moltissimo, e abbiamo i dati adesso qui fino a ottobre. di conseguenza, possiamo dire che il sistema è partito, ed è partito molto bene, è un partito forte. Adesso, quello che ci interessa, quello che interessa a me, perché io lavoro solo con le vacche da latte, per cui, le mie ricette, sono quasi tutte per scorte, in impianto, perché gli allevamenti sono abbastanza grandi, e secondo me, è la tendenza che dovrebbe andare oggi, il mercato zootecnico, gli allevamenti, sono sempre più grandi, o importanti, per cui, il discorso della scorta è importante. E vedete che, sono una fetta piccola, le ricette per scorta, nel complesso, perché abbiamo dentro anche tutte quelle dei piccoli animali, che sono la cosa più, la fetta più importante. Questo è sempre il numero di veterinari, per ricetta per scorta, vedete, è il numero più piccolo, queste sono il numero di ricette emesse, sempre per quanto riguarda il comparto delle scorte, nel mondo, rispetto alla totalità, siamo a numeri piccoli. questo è il numero di veterinari, che è pezzi dispensati, sempre per le scorte. Sono saltata una. Comunque, l'obiettivo, nel piano nazionale, del contrasto dell'antibiotico resistenza, che si riallaccia all'utilizzo della ricetta elettronica, perché questo cambiamento, va di pari passo, dal punto di vista ministeriale, ma non solo dell'Italia, dell'europeo, nella riduzione del consumo globale, dell'antibiotico sui nostri allevamenti. Per cui gli obiettivi sono la riduzione del 30% dei consumi globali, la riduzione del 30% delle dispensazioni per i prodotti per os, La diminuzione del 10% dei cia, e qui, secondo me, la diminuzione sarà anche maggiore, perché, siccome i cia vengono ricettati solamente dopo risultati di reali necessità, cioè dopo l'utilizzo delle analisi e l'antibiogramma, è molto difficile, almeno nei miei allevamenti, da aprile ad oggi, non ho mai fatto più una ricetta per un cia, perché nell'analisi degli antibiotici di sensibilità, degli antibiogrammi, c'è sempre almeno un'altra molecola di classe inferiore, per cui non mi è più capitato, per cui io ho ricettato zero pezzi. La colistina deve andare sotto i 5 miligrammi di PCO. Questo è un problema, questa diapositiva l'ho presa ieri dal convegno sul veterinario aziendale, perché è un problema che lo si sente a livello mondiale, non è un problema solamente nostro, perché questo è un report della Segreteria Generale delle Nazioni Unite, che dice che non abbiamo più margini di tempo per contrastare l'antibiotico resistenza, per cui dobbiamo cercare di lavorare sempre meglio nei nostri allevamenti. L'impatto dell'antibiotico resistenza non è solamente sull'allevamento o sulle mancate risultati, però ha un impatto a livello globale, non solamente sulla salute dell'uomo, ma sugli alimenti, sui terreni, su tutto, per cui questo studio dimostra che l'interesse è altissimo e la guardia deve essere aumentata moltissimo. Per cui il lavoro dei veterinari sarà quello di aumentare la professionalità e di dispensare i farmaci solamente in reale bisogno e di controllare molto bene come vengano un uso più corretto e prudente dei farmaci. Questi dati sono a disposizione di tutti per cui possono essere consultati e serviranno, poi come se lo spiegherà se riesce a fare il collegamento il collega Rusconi con tutto quello che anche la regione Lombardia sta implementando per il controllo della quantità di farmaci nei singoli allevamenti. Comunque stiamo notando che il consumo dei farmaci grazie alla ricetta elettronica ha il maggior controllo quello che diceva anche Fantini lui l'ha proiettato a livello europeo noi questi sono dati nazionali cominciamo a vedere una contrazione soprattutto di specifiche molecole che devono essere utilizzate con una maggior sensibilità perché ad esempio negli ultimi anni c'era stato un aumento dell'utilizzo delle cefalosporine di terza e quarta generazione poi sono entrate nei CIA e da lì abbiamo visto che c'è stata un'inversione di tendenza e l'utilizzo è iniziato subito a scendere. Questa è una diapositiva che ha già spiegato Fantini sull'utilizzo la distribuzione del farmaco nelle varie specie animali quello che interessa secondo me più i bovini sono quelli nella parte iniettabile che è comunque la frazione più bassa degli antibiotici utilizzati. Come potete vedere poi qui la diminuzione comincia a essere interessante questi sono tutti i dati comunque a disposizione di tutti le cefalosporine di terza e quarta generazione non sono mai state utilizzate in un modo esagerato però cominciano a contrarsi i noloni e anche le polimixine sono calate drasticamente. La ricetta ha semplificato tutte le procedure perché intanto che stai sei in macchina ti fermi un secondo riesci a fare la ricetta perché è per una scorta che qualcuno ha bisogno urgentemente per cui la semplificazione è stata notevole. La semplificazione degli obblighi amministrativi è sotto l'occhio di tutti perché non dobbiamo più tenere tutte queste montagne di carte e tante cose. siamo all'inizio per cui secondo me poi assisteremo a una re veramente alla scomparsa del cartaceo però ci vorrà ancora un po' di tempo. Queste informazioni sono a disposizione di tutto anche dagli organi di controllo per cui c'è una maggiore efficienza in tutti i processi di farmacovigilanza e di analisi del rischio abbiamo tutto un miglioramento delle analisi di tutti questi dati che ci portano a migliorare il contrasto dell'antibiotico resistenza. Il veterinario in tutto questo ha rafforzato il suo ruolo di collaborazione secondo me con l'allevatore ed è molto più presente. Questo potrebbe essere un grande stimolo un grande aiuto per veramente favorire la lotta all'antibiotico resistenza. Quello che voglio farvi vedere qua sono che tutti vabbè qui ci vedo tanti veterinari e qualche allevatore ci sono i vari c'è il sito ministeriale per poter accedere per fare ogni allevatore può controllare tutte le ricette che sono caricate sul suo sito senza avere a disposizione il cartaceo questo lo possono fare anche i colleghi dell'ATS stando in ufficio possono vedere le movimentazioni per cui possono rendersi conto delle code degli allevamenti cioè quelli che rispetto al numero di capi non ricettano niente o quelli che hanno un abuso di farmaci per cui hanno necessità di mettere mano alla gestione normale della parte clinica un auspicio forte di cui noi abbiamo bisogno perché come diceva ieri il relatore inglese nella parte del veterinario aziendale gli allevatori non amano fare i lavori due volte molte volte non si fa neanche una volta sola per cui la fase di registrazione di tutti i farmaci di tutti i trattamenti l'idea di doverlo fare sul sito ministeriale e sul programma che normalmente viene utilizzato nelle aziende perché ormai tutte le aziende almeno quelle che vedo io tutte hanno un programma di gestione dove segnano tutti i trattamenti e ogni cosa oggi lo devi fare sul programma di gestione e se uno non vuole più avere il cartaceo lo deve fare anche sul programma ministeriale il programma ministeriale ha dei buchi però ad esempio non ti mette a disposizione i trattamenti degli ultimi 90 giorni ad oggi i trattamenti sul singolo capo li puoi vedere però se dovessi fare un modello 4 i trattamenti degli ultimi 90 giorni non ci sono ancora a disposizione dico bene? una piccola anticipazione su questo argomento è che molto probabilmente c'è in corso una revisione dell'articolo 15 del decreto legislativo 158 e supereremo molto probabilmente il problema dei 90 giorni eliminando l'obbligo del conferimento insieme al modello 4 della dichiarazione del farmaco negli ultimi 90 giorni per cui questo problema dei 90 giorni a quanto pare sarà molto probabilmente superato abbastanza velocemente un'altra cosa che potrebbe essere molto utile per l'allevatore è di rendere un poco più elastico il discorso delle registrazioni nelle 24 ore perché risulta veramente molto complesso registrare tutti i trattamenti e uno ha 24 ore di tempo altrimenti viene multato siccome poi le sanzioni sono anche molto pesanti questo fatto di avere l'obbligo della registrazione delle 24 ore secondo me è molto penalizzante per cui a livello ministeriale sarebbe molto utile pensare a come a cosa trovare anche di alternativo se il fine terapia l'inizio terapia qualcosa andrà studiato perché altrimenti non dico il 100% sono ricattabili comunque sono soggetti ad andare incontro a delle penali perché è quasi praticamente impossibile poi abbiamo dei programmi di gestione che con questa storia non possono implementare la terapia nel senso io so già che se devo curare una vacca magari faccio 4 giorni di terapia mi prende la terapia per un giorno poi il giorno dopo devo segnare l'altro cioè è un lavoro che viene fatto 4 volte per fare un singolo trattamento l'allevatore poi si stanca non gli segna più vai a controllare le rimanenze gli scarichi non ci si trova mai bisogna sempre tornare più volte in allevamento è un lavoro che diventa anche frustrante oltre all'enorme perdita di tempo che esiste questo secondo me è stato uno degli errori che bisognerà colmare anche perché la mia laurea la mia esperienza e di tutti i colleghi che vedo anche qua è stata un po' dico messa in secondo piano è stata sminuita perché ad oggi noi possiamo non più fare le terapie come ci hanno insegnato e come sapevamo che potevano però dobbiamo rispettare quello che c'è sul bugiardino cioè quello che è l'approvazione ministeriale e questo secondo me non apporta un aiuto al contrasto dell'antibiotico resistenza ma molte volte ci aiuta a provocare un antibiotico resistenza perché i trattamenti da bugiardino molte volte sono troppo corti sono insufficienti come parlando prima col collega Fleming quando gli hanno dato il premio Nobel nel 45 aveva detto non è che gli antibiotici li aveva già detto allora che li potremo trovare dal droghiere perché sono una cosa importante e il dosaggio e il tempo della terapia sono molto importanti perché se i batteri non li ammazzi tutti quelli che si salvano possono ammazzare il mio vicino che non ha la terapia per cui io auspico che questi programmi non so tipo io ho messo il Sileva perché è un programma che tutti possono conoscere ed è diciamo non privato perché ci sono tutti anche gli altri programmi di gestione aziendale che potrebbero scaricare i dati nel ministeriale ed avere tutto posto e solamente così potremmo eliminare completamente tutto il cartaceo ed avere tutto sul programma ministeriale senza dover star lì e vidimare timbrare controllare eccetera eccetera questo è quello che in questi sei mesi io ho trovato e adesso do la parola a Carlo che magari ci dà delle notizie più interessanti riguardo al consumo prima di continuare i dati tecnici però che interessante quindi ringrazio per la chiarezza poi il collega diciamo ci sì sì la mettiamo volevo però continuare a contestualizzare perché è un argomento chiaramente di dibattito comunque siamo nella fiera della bovina da latte quindi nella produzione primaria io volevo chiedere al presidente dell'ordine dei veterinari di Cremona perché il dubbio o un chiarimento se potete un attimino aiutare perché il dato tecnico è interessante però è importante secondo me il contesto delle cose allora la ricetta veterinaria mi sembra di capire che non è un obiettivo è uno strumento è uno strumento che da una parte diciamo in qualche modo regolamenta l'utilizzazione degli antimicrobici ma non solo perché questo è il tema degli antimicrobici ma poi c'è il tema degli antinfiammatori c'è il tema degli ormoni c'è tutto ciò che potenzialmente può direttamente o indirettamente impattare sulla salute umana ma c'è anche l'altro lato che è sinonimo di benessere il fatto di curare gli animali per cui credo che non è così semplice trovare il bandolo della madassa la domanda che ti faccio e ti ringrazio della tua presenza ovviamente qual è ormai sono più di sei mesi diciamo di applicazione della ricetta elettronica i dati sembrerebbero confortanti che ci sia una riduzione perché l'obiettivo non è non utilizzare più gli antimicrobici ma probabilmente utilizzarli meglio allora quanto su questa apparente riduzione ha giocato ma è distinto è una di un collega a pelle diciamo quanto la regolamentazione sta giocando in positivo e quanto la consapevolezza del veterinario ovviamente è buiatra perché qui parliamo solo di bovini perché siamo alla fiera del bovino da latte sia un riappropriarsi della professione che è fatta di una diagnosi un'anamnesi una diagnosi una terapia e una prognosi cioè quanto è un recuperare la gestione del farmaco nella professione veterinaria perché c'è la ricetta elettronica e quanto è lo strumento in te secondo te pronto sì allora all'inizio è stata vista dai veterinari abbiamo fatto molte riunioni così come lo spauracchio la ricetta elettronica soprattutto per chi come me non è giovanotta e quindi l'impatto con quello che tutta la tecnologia diventa complicato invece alla fine siamo stati siamo contenti di questa cosa e l'impatto a livello dell'allevatore è stato molto positivo perché abbiamo avuto in mano uno strumento in più perché ok facciamo la diagnosi esistono le patologie ma c'è tutta la parte del benessere animale della gestione dell'animale che è quella che va a compensare e a fare la differenza quindi questa cosa a mio avviso è stata molto più implementata molto più ascoltata ma anche noi stessi ci siamo resi conto che dobbiamo essere un po' più incisivi da questo punto di vista sicuramente il il fatto di gestire il farmaco in questo sistema ci ha reso più importanti tra virgolette nel senso che abbiamo riacquistato sicuramente un ruolo maggiore da parte del relatore avremmo dovuto farlo anche prima ti volevo chiedere poi entriamo negli aspetti più tecnici ma credo che interessi più a questo contesto il contesto perché è in ballo anche il futuro della professione veterinaria no? perché sai ci sembrerebbe che tutto ci stia portando ai protocolli ma quando c'è il protocollo il professionista serve più poco perché ne abbiamo anche discusso con il professor Sali ieri che ci ha ripercorso gli ultimi 70 anni della professione veterinaria e ci ha dato anche diciamo delle legnate per certi aspetti sul futuro perché questo è importante secondo me perché lo strumento legislativo ovviamente la sua applicazione corretta dello strumento legislativo appartiene al comportamento occidentale le leggi se ci sono vanno rispettate poi gli strumenti per rispettarli sono giusti o sono incompleti quelle sono analisi che non competono a questo workshop però e visto che comunque ci abbiamo di fronte un obiettivo ben preciso perché a me fa paura perché l'estremizzazione di ciò è l'antibiotic free l'antibiotic free molto richiesto diciamo con molta superficialità da alcune catene di distribuzione può anche riportarci io non sono più un bambino ricordo quando facevamo le riunioni per raccomandare la terapia sistematica in asciutta ci siamo ci siamo no uccisi a fare è Marco Noscetti quanti incontri abbiamo fatto all'Apa di Modena hai fatto tu per raccomandare in maniera ferrea che tutte le bovine debbano essere trattate con gli antibiotici in asciutta perché avevamo di fronte un obiettivo che era la riduzione delle mastiti subcliniche non delle cellule somatiche poi ad un certo punto ci siamo accorti che quello che non abbiamo che quel tempo era terminato non c'era il problema adesso abbiamo questa cosa e stiamo raccomandando la terapia selettiva con forza però raccomandando anche sì se ci sono le condizioni giusto? perché di fronte abbiamo che se una gestione solo legislativa e una gestione questa è la mia opinione e non professionale ci può portare di nuovo all'olocausto dei vitelli ci può portare di nuovo all'olocausto delle mastiti perché i dati dei controlli funzionali quindi delle vacche individuali non ci stanno dando la sicurezza di dire il problema delle mastiti subcliniche in Italia è risolto non è risolto per nulla se voi guardate avete citato il Sial se voi guardate i dati delle cellule somatiche individuali per provincia o per regione delle circa 11.000 allevamenti di razza frisone iscritti le cellule somatiche tante erano e tante sono non è che è cambiato molto per cui io credo che l'equilibrio vada trovato sicuramente la legge va rispettata va monitorata io guardo Angelo Karamaschi le difficoltà di inserimento no Angelo dei dati iniziali ma ci sta però non perdendo di vista l'obiettivo noi siamo medici veterinari e noi dobbiamo curare gli animali e tutelare la salute umana punto non altro e quindi è necessario secondo me accanto a una puntuale sempre miglioramento della legge più raffinata non perdere di vista il nostro obiettivo per cui la domanda che ti ho fatto e cui mi hai risposto ma mi permetto di insistere prima di dare la parola al collega Rusconi di dire l'ordine dei veterinari di Cremona che è un'area a parte che ci ospita ma ad altissima densità di allevamento della bovina da latte c'è questa sensibilità o è semplicemente di capire che l'uso razionale degli antibiotici è figlio solo ed esclusivamente di una più precisa e peculiare ripresa l'hai detto tu e lo voglio ribatire di rapporto con l'allevatore è una cosa che condividiamo noi purtroppo veniamo e penso che i colleghi veterinari mi diano ragione a un aver delegato spesso all'allevatore la gestione delle mastiti e quindi un uso non improprio folle degli antimicrobici a tentativi senza l'esame ziologico sempre siamo comunque veterinari cioè su questo non ci piove in azienda ci siamo noi siamo noi che curiamo che facciamo diagnosi che facciamo questo su questo assolutamente è così è chiaro che dovremmo magari essere un po' più uniti nel confronti di verificare certe molecole di capire e di essere insieme a livello di verifica controllo e anche continuamente capire scientificamente che cosa sta succedendo perché non possiamo bloccare tutto e rimetterci al bugiardino questo assolutamente no cioè il fatto di riprendere io vedo che la ripresa quello che noi diciamo che ci stiamo riprendendo la professione è relativo nel senso sì ok io penso che siamo comunque noi che siamo in azienda che siamo responsabili della sanità dell'animale perché noi curiamo gli animali il nostro focus questo non ce n'è però questa questa icia il stare attenti a questo aumentare l'antibiogrammi eccetera ci ha portato almeno da quello che sento con i miei colleghi a valorizzare più ed entrare nello specifico di come alleviamo gli animali quindi è inutile avere diciamo così la pezza dell'antibiotico piuttosto che del sulfamidico o di qualsiasi prodotto strano che arrivi in azienda quando bisogna cambiare e bisogna modificare bisogna migliorare la gestione dell'animale per questo siamo convintissimi collega Rusconi dacci un aggiornamento allora buongiorno mi alzo in piedi perché mi riesce meglio abbiamo cominciato a raccogliere i dati della ricetta elettronica perché c'erano tutti questi dati che avete visto nelle presentazioni precedenti una determinata quantità di antibiotico usato in Italia venduto in Italia sicuramente superiore rispetto a quella che è la media europea e tutta questa operazione ha indotto il ministero noi che siamo stati visitati ma anche qui nella Valpadana da parte dei commissari europei ci ha spinto a portare avanti il sistema della ricetta elettronica considerate che in Lombardia ad oggi sono state emesse 60.000 ricette per il carico della scorta nel 2019 30.000 ricette per le terapie e sono state emesse ve lo do così 900.000 ricette per l'uso pet per gli animali da compagnia e per gli animali quindi noi ragioniamo spesso su questi argomenti dimenticandoci che una fetta assolutamente importantissima per quanto riguarda l'antibiotico resistenza è quella che si occupa degli animali da compagnia non voglio divagare troppo rispetto a questo però nessuno di noi si porta un maiale sul divano tutti quelli che hanno un cane e un gatto se lo porta sul divano in casa quindi il rischio di passare determinate caratteristiche di resistenza da parte del settore animale al settore umano è molto alto ed è molto importante la parte degli animali da compagnia ma voglio chiudere subito questo argomento qua lo voglio chiudere perché qui come vedete c'è l'immagine della Lombardia e questi sono i primi dati c'è un cruscotto che deve essere migliorato vedete ha un dato fisso quindi questi dati che ci sono dentro sono parametrati al 21 d'agosto ma noi con alcune con alcuni miglioramenti che dobbiamo fare e tra questi miglioramenti che ci hanno promesso ci saranno verso la fine di novembre ce l'hanno promesso gli informatici per cui non siamo così sicuri che arriveranno proprio alla fine di novembre però sono sicuramente aggiornamenti che avremo avremo la possibilità di avere questo cruscotto che adesso vi faccio vedere un po' aggiornato in tempo reale e avremo la possibilità che ogni veterinario libero professionista acceda a questi dati per tutti gli allevamenti a cui lui è associato come responsabile delle scorte e come questa associazione in più che abbiamo dovuto per forza inserire nel sistema della ricetta che permette al veterinario di fare le ricette in un'azienda dove non è responsabile della scorta e permette in questo periodo di transizione anche a lui gestire un po' quello che è la parte dei trattamenti che se no che l'allevatore spesso non fa se voi avete guardato una delle criticità che avrete nelle vostre stalle è che compare una scorta fittizia che è questa scorta che è data dal fatto che in un'azienda dove non è possibile fare scorta comunque vi trovate dei farmaci caricati in questo caso è perché avete fatto una ricetta per il trattamento degli animali il trattamento non è stato registrato nel sistema con inizio trattamento e fine trattamento e quindi non è stato scaricato questi farmaci ve li trovate nel caso in cui usate il registro dei trattamenti cartaceo e non il registro dei trattamenti elettronico se doveste usare il registro dei trattamenti elettronico tutto si sistemerebbe per cui noi ad oggi abbiamo questi questi aggiornamenti in corso che sarebbero ripeto il dato in tempo reale e non come vedete questo aggiornato ad un periodo fisso in più la possibilità a tutti i veterinari di vedere tutti i propri clienti e le aziende a cui sono associati in modo da in qualche maniera fare dei confronti fare dei confronti tra gli allevatori magari farsi qualche confronto tra collega se si vogliono condividere i dati e comunque tendere a migliorare la questione una questione che a fronte di questi dati è già parzialmente migliorata rispetto a quello che avete visto fino adesso perché in Lombardia per esempio mentre nei dati dell'Europa la PCU adesso vi parlo anche della PCU la PCU italiana per i bovini era 150 in Lombardia è quella che vedete ci sono davanti io ma usi il telecomando no è che devo mandare devo muovere là perché se no non si vede allora vedete che la PCU il valore medio della nostra PCU comincia già a essere su dati relativi al 2019 molto diversa rispetto a quella che è stata pubblicata dagli EMA e dalle altre associazioni e guardate anche quanto è la PCU dei CIA veramente molto bassa e voglio dire la tendenza è ulteriormente in miglioramento questo qui è la situazione della Lombardia questo purtroppo però è uno strumento che esiste perché i dati vengono presi direttamente dal sistema della ricetta elettronica che però abbiamo diciamo tra virgolette richiesto da qualche mese ormai noi e c'è stato prodotto e questi sono i risultati che vedete ma vi faccio vedere altre cose la stessa cosa ma non è questo l'argomento è quella dei suini se io clicco qui vedo tutta la la questione dei suini della Lombardia è uno strumento ancora grossolano questo perché dentro ancora bovini dentro in questo sistema abbiamo chiesto anche di poter filtrare per aziende per diciamo consistenza delle aziende dentro nel sistema oggi abbiamo anche aziende familiari anche aziende familiari che in qualche maniera ci creano dei problemi nella valutazione della PCU sapete la PCU è un indice è un indice grossolano è un indice che verrà sicuramente in futuro migliorato cambiato con un indice più efficiente più interessante che è la DDD che è la dose giornaliera terapeutica questo invece è il peso della molecola di antibiotico che entra in azienda raffrontato al chilo carne presente in azienda questo è il nostro PCU però non so se avete visto prima il dato di confronto europeo è comunque su questo indice non sull'indice migliore sicuramente migliore che sarà a disposizione probabilmente tra qualche anno ma noi in Lombardia interessava visto che siamo la diciamo di Tazzo Tecnica italiana ci interessava utilizzare quei dati che abbiamo e che abbiamo oggi dalla ricetta elettronica e ormai sono sei mesi di dati se considerate che in tutta la Lombardia con la ricetta elettronica nel sistema della ricetta elettronica c'è ad oggi l'88,7% delle aziende di bovini e il 95% delle aziende di suini e ci aspettiamo un dato che arriva su oltre il 90% per fine anno consideriamo diciamo coperto tutto tutto questo campo per cui ecco ci interessava avere un cruscotto e questo è il cruscotto è il cruscotto che misura appunto tutte le attività ve lo faccio vedere uguale soini o bovini ma si misura così ed è e sarà a disposizione di tutti i veterinari qui ci dice che percentuale di tetracicline sia in percentuale che in PCU ci dice quanto CIA stiamo usando questo è un dato della Lombardia in generale ma può essere anche filtrato per area per cui nel nostro caso siamo nella TS Valpadana qui così vedete il dato dei bovini della TS Valpadana considerate che anche in Lombardia gli animali si concentrano per il 70% tra Cremona e Mantua ma Cremona e Mantua è la fusione delle nostre due province per cui la TS Valpadana adesso è fatta dalla fusione di Cremona e Mantua se ci attacchiamo anche Brescia e Lodi facciamo il 90% del carico zootecnico della Lombardia per cui vedete come sono fitti i dati di rilevazione e anche qui anche qui se vogliamo andare a vedere andiamo a misurare la percentuale vedete con la freccia la percentuale per categoria degli antibiotici che si usano i vari CIA e se ulteriormente affidiamo la ricerca vedete che c'è un allevamento che è assolutamente fuori scala questo allevamento è fuori scala ma è una delle correzioni che dobbiamo fare perché è un allevamento che consideriamo i bovini ma questo allevatore ha 3.000 suini per cui in questo errore questo errore così grossolano ma che verrà modificato col tempo quando affiniamo il problema il sistema è legato proprio al fatto che il carico di antibiotico che è entrato in quell'azienda lì è entrato per i suini ma noi lo abbiamo conteggiato nei bovini è per quello che ci viene un dato così fuori scala ma se andiamo avanti sempre nel dettaglio arriviamo a vedere anche per provincia questi sono i dati della provincia di Cremona sempre i bovini e la stessa cosa c'è anche per i suini ma se andiamo avanti andiamo a vedere anche per comune e qui vediamo gli allevamenti di questo comune e se vogliamo andiamo a cercare la stalla dentro nel comune ma ve la faccio vedere perché per un filo di privacy però se dovessimo scegliere la stalla vediamo poi all'interno di questa stalla come sono distribuiti sia la famiglia di antibiotici e tutto questo dato questo dato ci sembra molto interessante è un dato che daremo sicuramente a disposizione di tutti i liberi professionisti e anche dell'allevatore del singolo allevatore ma mentre il collega avrà a disposizione tutto il suo parco clienti passatemelo l'allevatore vedrà solo se stesso questo qui è il frutto di tutto quel lavoro che è stato messo in campo da tutti voi nel lavorare sulla ricetta elettronica qualcuno ci sta criticando ci dice sì ma questo non è effettivamente il dato di consumo ma è il dato del farmaco che sta entrando in azienda però onestamente io non so quanti dei nostri allevatori comprano il farmaco per tenerlo lì alla fine tutti comprano il farmaco per poi usarlo quindi è molto veritiero come dato certo quando avremo la possibilità di vedere effettivamente sul registro dei trattamenti quali animali sono trattati ci aspettiamo un dato un filo più preciso però non credo che cambierà tantissimo questo però ripeto è un indice e come indice noi che abbiamo diciamo questo compito di vigilanza lo usiamo lo usiamo per andare a fare le nostre verifiche mirate e le nostre verifiche mirate sono finalizzate ad andare a vedere quelli che si scostano un po' troppo dalla media o per eccesso di uso o per un uso troppo basso e comunque un indice quindi non necessariamente un uso troppo alto di antibiotico che viene fuori da un indice come questo è un difetto perché se presumiamo che in quell'azienda lì che per qualche ragione ha avuto questo indice che la sballa rispetto a tutti gli altri ma sappiamo a seguito di una verifica sul campo che comunque deve essere fatta per verificare un indice che dicevo in quell'azienda lì c'è stato qualche episodio infettivo c'è stato qualche problema il fatto che il valore balzi a diciamo come quantità e come importanza è legato al fatto che c'è un episodio chiaramente documentabile di infezione di qualche cosa in azienda ecco questo è un sistema che ci porterà che noi terremo e continueremo a portare nel tempo e che verrà integrato un domani quando sarà a disposizione da un indice un po' più fine che è quello che vi dicevo della DDD su cui tutti stanno lavorando ma è molto più complesso da estrarre correttamente questo è più semplice un altro dei difetti di questo di questo sistema che però come sul risultato da poca da poca rilevanza è che noi abbiamo codificato su lavori scientifici i pesi per cui abbiamo detto che una manza pesa 300 chili una vacca pesa 450 chili un vitello pesa 80 chili è vero che diciamo una un'indicazione per certi versi arbitraria però uguale per tutti per cui sballa pochissimo nel senso che noi accediamo alla banca dati nazionale dalla banca dati nazionale sappiamo le categorie degli animali che ci sono dentro le categorie degli animali che ci sono in stalla vengono pesate misurate con questi range e tiriamo fuori un dato come questo che ci sembra assolutamente assolutamente importante e se non altro anche se Grossolano ci fa vedere che non non è proprio vero tutto quello che ci è stato fatto vedere fino adesso sui nostri consumi sulle nostre vendite e su tutto questo aspetto che in molti casi dà l'idea di essere più una battaglia commerciale che non tanto una battaglia sanitaria o una battaglia sulla qualità dei nostri alimenti ecco io se avete domande poi guardiamo altre cose però a questo è diciamo il cruscotto che in Lombardia usiamo e abbiamo e cercheremo di migliorare va bene grazie abbiamo pochi minuti ancora e volevo proprio due flash chiedere e approfittare Marco conoscetti il parmigiano reggiano che non c'entra nulla con questa regione o in parte però nulla diciamo parmigiano reggiano poi abbiamo allargato un po' i confini eccetera ma qual è la sensibilità del consorzio di tutela nei confronti dell'uso diciamo consapevole razionale corretto forse degli antibiotici una battuta Marco che non era poi preparata lo sai grazie dico una veloce considerazione che vale per noi ma vale per tutti quelli che hanno dei prodotti di food da vendere che io nel mio piccolo sono veterinario ma col mestiere che faccio il consorzio sono più vicino anche molto attento anche a quello che chiedono i compratori del formaggio tutti i giorni abbiamo segnali che l'uso di farmaci e il livello di benessere degli allevamenti diventeranno una componente del prezzo finale del prodotto decisivo si può fare il formaggio più buono del mondo ma se il latte è fatto male diventerà un problema venderlo stando sul tema specifico dei farmaci segnalo che ci sono già grosse compagnie che chiedono informazioni proprio nei capitolati d'acquisto del formaggio su che policy si usa negli allevamenti e non avere informazioni su questo è una tragedia quest'estate abbiamo avuto una vicenda in Germania di questo tipo in questi sistemi di classificazione dei fornitori la mancanza di informazioni è peggiore che dare informazioni diciamo su pratiche sbagliate per cui e chiudo questi strumenti oltre a fornire alla pubblica amministrazione dati necessari per i controlli ufficiali sarebbe credo importantissimo poterli utilizzare anche per trasmettere le informazioni al mercato ieri il husband citava anche prima Marchi diceva che in Inghilterra Tesco che è la più grande compagnia fate conto Copes e Lunga insieme moltiplicati per tre o quattro tre anni fa ha detto basta CIA da giorno dopo nessuno ha più usato i CIA e tutti devono documentare che non li usano bisogna cominciare a farlo anche noi e probabilmente si può fare anche velocemente perché insomma non è morto quasi nessuno questo ci diceva il nostro collega ieri però insisto soprattutto avere questa preziosissima risorsa della ricetta elettronica che permette anche di documentarlo sarà un valore non dico inestimabile ma fondamentale per cui i veterinari qua veramente hanno giocato nel mantenere il reddito dei loro clienti hanno giocato e giocheranno un ruolo fondamentale veramente lo volevo dare proprio a te Carlo volevo sentire lo sai abbiamo sentito un po' le parti i stakeholder dicono adesso ma l'industria farmaceutica intesa come azienda la tua azienda ma anche il contesto dell'AISA quindi dell'industria qual è l'atteggiamento che o meglio è preoccupato di questa diciamo tendenza alla riduzione vede invece nella razionalizzazione una grande opportunità mi piaceva un po' capire la tua opinione e le opinioni dell'industria innanzitutto grazie a tutti i partecipanti i relatori che stanno affrontando un tema difficile in un modo molto molto competente e chiaro io parlo per quello che è la FATRO per quello che è la nostra industria la nostra missione è la salute animale per la salute dell'uomo quindi già da diversi anni il concetto di One Health è dentro la nostra mission questo fa parte quello di cui stiamo parlando oggi dell'uso consapevole fa parte di One Health cioè la salute animale e la salute dell'uomo sono unite come anche la salute dell'ambiente quindi anche Eco Health diciamo che ovviamente c'è stato un calo una riduzione questo era fisiologico ma c'è stato anche con il DL 119 a suo tempo tutte le cose hanno bisogno di assestarsi tutte le cose nuove fanno paura sono d'accordissimo con Marco e d'accordissimo con la dottoressa Colombo con il dottor Rusconi e il dottor Marchi che mi hanno preceduto che mi sembra di aver capito tutti pensano che sia una cosa importante che sia un passaggio notevole e credo che dopo un primo periodo ci sia un assestamento personalmente Alessandro sono più preoccupato per gli animali da compagnia perché negli animali da compagnia c'è un ricorso se proprio dobbiamo parlare francamente a mio modo di vedere c'è un ricorso all'antibiotico di umana e già da prima già da prima della ricetta c'era una cosa che stimavamo noi anche come associazione un ricorso al farmaco di uso umano per 70-80 milioni di euro che è incrementato notevolmente nell'ultimo periodo da stime che abbiamo e questo come diceva prima il dottor Rusconi per l'antibiotico resistenza non è proprio il massimo e ovviamente uno strumento che dovrebbe controllare il consumo degli antibiotici paradossalmente fa sì che una parte del mercato scappi a questo questo non so se è confortato dai suoi dati l'integrazione che volevo fare rispetto a quello che è stato detto un attimo fa per gli animali della compagnia è che non è possibile riuscire a fare un cruscotto come questo però è possibile fare un cruscotto come questo mirato sul collega che ricetta per cui noi riusciamo a verificare riusciamo a verificare già oggi che tendenze di prescrizioni ha il collega che lavora con i piccoli animali poi questo problema dell'uso del farmaco umano per curare degli animali da compagnia onestamente in Lombardia sono almeno quattro anni che stiamo lavorando sugli ambulatori andando a verificare ci sono state prese anche dei provvedimenti anche abbastanza importanti nei confronti di alcuni colleghi che facevano un abuso dell'uso del farmaco umano per cui sappiamo bene com'è il problema e cerchiamo di migliorarlo considerate un po' che è un mondo un po' diverso rispetto a quello che tra di noi siamo abituati a vivere io ho sempre lavorato in campagna il contatto il contatto che c'è con i colleghi sia ufficiali ma anche come regione e colleghi che lavorano nell'ambito zootecnico è diverso è un contatto più diretto con gli animali compagnia è molto complesso e vi assicuro che l'approccio dell'Europa è molto più rigido rispetto al nostro perché a Roma in occasione della chiusura di una verifica fatta un anno e mezzo fa da noi sull'antibiotico resistenza su quello che stavamo facendo in cui gli abbiamo fatto vedere tutti questi sistemi tranne il cruscotto che non c'erano ancora i commissari europei un luminare nostro collega degli animali da compagnia di Roma invitato al ministero ha chiesto al collega scozzese ma io ho lì un animale che mi sta morendo e devo assolutamente usare uno di questi cia cosa devo fare? e il collega scozzese gli ha detto muore il cane senza dubbio e senza discussione chiaramente noi in Italia non possiamo affrontare il problema in questa maniera ma sappiate che esistono mondi diversi rispetto al nostro sono in te trenze e ci stiamo rubando le frequenze di questi microfoni con tutta la fiera quindi ogni tanto ce lo spengono perché lo prende qualcuno quindi c'è un problema tecnico comunque dobbiamo chiudere però una battuta Carlo proprio una battuta scusa non ti voglio togliere no no ma è proprio una battuta guarda dobbiamo concludere perché poi abbiamo fatto un workshop abbiamo scomodato un professore cinese ieri per la fitoterapia abbiamo parlato c'eri anche tu ti ricordi acupuntura non per esplorare lo scibile però mi domando una cosa Carlo questa è un po' una provocazione tu sai cosa gli sto per dire perché ne abbiamo già parlato qui stiamo parlando però non del farmaco qui stiamo parlando degli antibiotici però diciamo che per curare gli animali o meglio per prevenire le patologie perché poi alla fine è questo esiste tutto il mondo dei vaccini e poi esiste tutto il mondo dei farmaci metabolici cioè probabilmente io parlo per l'industria chiedo Carlo non cioè sì ci sarà probabilmente celebrare un po' qualche decesso di qualche consumo di antibiotici in più del normale però ci sarà per tutelare la salute degli animali probabilmente i farmaci metabolici ci sarà un forse un impiego più massiccio più ragionato anche delle vaccinazioni oltre a tutto quello che diceva la Nicoletta sulla prevenzione cioè noi lo vediamo cioè la dermatite digitale la curi ma il 99% lo fai se prendi una ruspa e rifai la stalla voglio dire ma questo vale anche per le massi di cliniche cioè se applichi le norme elementari di igiene tanti massiti non ce li hai più e quindi non hai da curare Carlo come vedi questo diciamo una vision brevissima del futuro del farmaco veterinario sicuramente il farmaco a mio modo di vedere subisce una trasformazione che è dovuta anche a un cambiamento fino a poco tempo fa noi non parlavamo di benessere animale parlavamo solo di salute adesso il benessere e la salute sono strettamente collegati ovviamente tutti i farmaci che vanno a migliorare il metabolismo che vanno a migliorare la fisiologia l'immunità contribuiscono alla salute ma anche al benessere dell'animale così pure come le vaccinazioni così pure come gli antinfiammatori eccetera guarda proprio un flash io e te ci siamo conosciuti credo 32 anni fa proprio qui mi dispiace io avevo meno della metà degli anni che ho adesso e ci siamo conosciuti perché io dovevo dire che in Italia solo il 37% delle vacche erano trattate per l'asciutta contro una media dell'82% che era in Francia e in Germania questo per dire credo che sia chiarissimo a tutti con questo aneddoto come cambia il tempo come cambiamo noi scusa farlo per me ma come cambia nello stesso tempo come cambiano le cose nel tempo e credo che non di qui a 30 anni ma di qui a 4-5 anni anche il nostro mercato il mercato del farmaco si modificherà fermo restando che le somme finali possono essere le stesse non so se mi spiego e ovviamente con i vantaggi da parte di tutti soprattutto per i prodotti di origine animale proprio anche a livello commerciale perché potranno essere venduti meglio e con maggiore rispetto allora proprio per chiudere mi piace tantissimo questa immagine perché tutte le attività devono essere scientificamente misurate e documentate questo credo che sia proprio l'etichetta di quello che stiamo facendo che state facendo e tutto deve tendere a questo bene mi ringrazio purtroppo dobbiamo chiudere perché poi alle due ne abbiamo un'altra grazie 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 grazie